e poi poi tu non ci vuole a chiamare ti non ha fatto il porto ma perchè ce l'hai con lui in quest'ultimo periodo? perchè lo hai preso di mira? vuoi morire! non sporca! che che? è rimasto grossi ancora quella storia dell'amaro lucano che che? che storia dell'amaro lucano? ci stai... non grittare! non per te! non mi puoi fare la valigia sull'aria la puoi fare subito! ma perchè? io voglio sapere perchè ce l'hai con lui? come si dici? dai tu non andai bene chi ha detto? e fai la valigia il po' a pota mo ma non c'è la spalla roba per un chicchetto non dato? non dato tu stai facendo tutta questa sceneggiata che avrebbe fatto prima a dartelo senza telecamera te lo bevevi ma... ormai a me dame ci fosse anche che vabbè tu si conducava qua 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 vabbè frecce e tricolo c'è frecce e tricolo e quelli li stanno venendo a bombardare è sbagliare! e tu non c'è... non ti prenderai dentro! non ti prenderai dentro! hanno abbattuto la velocità del suono eh? ehm? come tu abbatti la... si! loro abbattono la velocità del suono perchè ce l'hai con lui? ehm? sono una fascina! da noi! non gridare! perché? ehm? non c'entra! da noi sono una fascina! la valli già sul letto! io sono anche... facciamo così! io sono anche disposto ad accettare questa cosa ma voglio sapere perché! no! se no... allora... per cacciarlo dobbiamo avere una giusta causa! c'è causa! io ti ricordo che io sono sempre la maggior azionista eh! tu sei il proprietario! ma io sono presidente amministratore euro! quindi ti posso... no! che cazzo! che cazzo! e allora ce ne andiamo noi? ce ne andiamo noi? e lasciamo il padrone da solo? c'è un padrone che cazzo! questo è un padrone che cazzo è morto eh! cazzo è da avere il padrone! è morto! è il proprietario del 100% delle cazzo! che cazzo! che cazzo! che cazzo! che cazzo è morto! non lo faccio! no no! 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 ma io voglio sapere... ma c'è la propria morte con te! ma sicuro che era solo la mano Lucana? no! 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 fredda perché fredda 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 perché fredda d'altro perché tu fatti da me fredda a dare da crepe tu fredda se ti accorgi papà perché a me ne butti vuoto eh fredda anche fredda anche fredda che tu per me che tu per me non dite fredda che tu per me non dite fredda fredda anche fredda che non dite mai ma ti rendi conto la gravità delle cose che stai dicendo per un cicchetto di amaro lucano che non è bevuto ormai siete proprio bassi bassi siete bassi bassi siete quella sera neanche sono uscito io stavi con lui che c'entro io e lui dice anche così il diretto è morto e vabbè ma ne cospetto un mezzo perché lui non si sta a prendere la sua risposta metta te sempre in mezzo sei a metta mezzo ma dico oggi per quale motivo sei tornando alla carica per cacciare tino la regia comparico dove è finito quel tempo niente più bassi niente è finito il tempo dei compari no no la fronuccia quindi quanti eravamo prima prima eravamo in tre ma siamo in due siamo in due siamo in due prima eravamo in tre ma siamo in due speriamo di non rimanere uno eh perché rimarremo uno ma non uno eh appunto ti prego contieniti ti posso chiedere il motivo semplicemente di questo fatto qua tu la vuoi smettere di provocare e sei sempre là come il grillo parlante e come no e cosa mi vuoi dire che cosa è successo no no ti ha mancato di qua io lo devo sapere perché io poi posso prendere i provvedimenti no la capiglia è sovra ma come fa allora io devo ma posso andare pure a te dico tu non ne chiedo dico da lì però poi ho bisogno del cash mi stai dicendo o te o lui devo scegliere o te o lui tu scegli me e dai tu scegli come scegliere allora mi dà una ragione se no mi dispiace voglio mi dispiace voglio si dice si cambia anche io i pantaloni mi sapete il jeans a questi cosa cambia gli altri pantaloni vado a levagli vado a dire ho morto vado a stare là mi dà tom mi dà falano la finisci il cazzo no li dai corda no mi dai quello ci c'è che qui ti ha fatto la voca per parlare a slo un po' a poto lascialo che tieni allora io devo fare un'altra di contestazione per fare un'altra di contestazione devo scrivere il motivo per cui lo sto contestando mi dici qual è il motivo che devo scrivere senza te no non può essere così devo giustificare ma ci non mi ha fatto papà perché non mi ha fatto papà perché l'andava perché l'andava perché l'andava qual è il problema non mi ha fatto problemi siamo un'azienda un SRM è morto è morto devo spiegare perché lo sto cacciando Dio ma di me non posso cacciarlo senza giusta causa perchè devo tenere se tu non mi dici ebi se tu non mi dici non ci sto tracciando tutti non ci sto tracciando ci non mi ha fatto ma anche subito, sei dappertatino, sei, che puoi apportare. Ma stai facendo la parte? Stai recitando o stai facendo la parte? No, se ne vassi devi fare la valigia, se ne vassi. Ho capito, ma lo stai facendo apposta? No, no, non la parte, sto sempre in dedibito. Mi puoi far sapere per quale motivo, che cosa fai? No, se ne vassi, basta. Chi sbaglia? Va a mettermi la parte. Ha sbagliato, va a mettermi la parte. Ma quale è stato l'errore? Il fatto dell'amaro? Ciccola, ma ormai, a prendeciò, se ne va a fare la valigia sul letto, basta. Ma la stanza che puoi portare, dove va? Ma perché? E perché sì! Ora mi faccio vedere la sosta, perché? Perché? Se ne vassi, basta. Ciccola, c'è un po' di scema che ti sa dici chi scorda. Ciccola, c'è un po' di scema, la cosa che ho mangiato, sto a dovere per me. Ancora per poco o no? Beh, perché c'è un po' di scema? Devi trasferire. A cheese. Devi trasferire. Ti devi trasferire. Ti devi trasferire. Non esiste proprio. Ti dico che ti devi trasferire. No, non esiste proprio. No, non esiste proprio. A lavarci i pensini. Sì, proprio. Guardi tu per i pensini. Che cacchio hai mangiato che stai così... Così si mangiano sempre. E cioè? Ah. Ho già fatto? Vediamo. Il ragù. Il ragù. Perché stai così acido? Stai sempre acido. Stai sempre acido a di 줄.